Siamo col Presidente del compresorio di Monte Rosaschi, una giornata qui con un po' di nebbiolina ma su in alto, come sempre, c'è un panorama molto affascinante. Presidente, un 2013-2014, una stagione che è partita bene, con una bella nevicata già in dicembre. Sì, quest'anno la nostra zona è stata particolarmente fortunata, abbiamo avuto delle buone precipitazioni a fine novembre, abbiamo potuto mantenere la promessa di aprire gli impianti per l'ultimo weekend di novembre. Ahimè non abbiamo avuto un grande afflusso di persone nel periodo dell'Immacolata, non essendoci un ponte, essendo un weekend praticamente normale. Il periodo natalizio che si è chiuso al 6 gennaio è stato, come ahimè avviene da tanti anni, caratterizzato sempre dalle condizioni meteo, con giornate belle, afflussi importanti nel compresorio, con previsioni e giornate di maltempo, la gente invece decide di rinunciare, quindi le presenze ne risentono in modo significativo. Ecco Presidente, voi fate molte attività sia d'estate che d'inverno, proprio per promuovere il turismo. La Val d'Aias attira veramente tantissime persone, non solo in ambito nazionale ma anche internazionale. Oggi a livello di stranieri qual è la nazione che frequenta di più la vostra valle e le vostre piste? Allora, nella Val d'Aias abbiamo un'ottima presenza di clientela inglese, e anche nella zona di Gressonei ci sono anche tanti scandinavi. Si stanno affacciando anche i primi russi nelle nostre località, i russi sono una clientela altospendente, però con la richiesta di strutture di alto livello e quindi in questo momento stanno scegliendo ancora altre località perché noi, ad esempio, nei nostri comprensori non abbiamo dei 5 Stelle. Tornando alle attività che noi facciamo, volevo ricordare un'attività che abbiamo fatto nella passata estate che è stata quella di riproporre alla clientela il fascino del collegare le tre valli, ovvero la Val d'Aias, la valle di Gressonei con la valle di Alagna, e fare questo utilizzando la bicicletta. Abbiamo tenuto aperto nei mesi di luglio-agosto i nostri impianti che garantiscono questo collegamento e abbiamo creato quello che veicoliamo come marchio, ovvero il Monte Rosa Bike. Ecco Presidente, gli scorsi anni sono stati caratterizzati da importanti investimenti da parte di Monte Rosa Schi sul funicolare che c'è qui vicino a Champoluc e soprattutto l'impianto del Gabbia di Punta Iolanda. Però voi quest'anno, nel 2013, avete fatto un'estensione della società acquisendo altri impianti e altre strutture. Sì, quest'anno nel mese di maggio ha avuto formalmente effetto la fusione per incorporazione con le società di Brusson, Gressonei Saint-Jean e Champorche, quindi la società Monterosa, S.P.A. si è ulteriormente ingrandita. Per quanto riguarda gli investimenti, come ha ricordato lei, appunto sono stati fatti investimenti importanti negli ultimi anni. Adesso ci dedicheremo alle revisioni generali che sono obbligatorie per legge e che dovremo fare, diciamo soprattutto sugli impianti che collegano la dorsale verso Gressonei e verso Alagna.